ragazzi il nostro lavoro da operatori elettricisti è terminato ho messo i lampioncini eccoli qua guardate che belli tre lampioncini ho messo manca solamente le lampadine dentro che poi le comperò manca solo fare il tocco finale di fare l'allacciamento che devo farlo lì eccoli qua lavori terminati finiti lampioncini colorati messi su guardate come sono carini tre lampioncini guardate che lavoro da elettricista devo solamente dare una pulita qui per terra che spettacolo ragazzi ho fatto un lavoro veramente proprio da vero elettricista che ne dite lampioncini ora metterò anche le lampadine che non ci sono da 12 watt così più questa che ho messo e queste qui farò un illumination proprio spettacolare guardate come è bello questo ragazzi è vetro manca la lampadina che ora ci metterò l'ultimo tocco da obraietta elettricista come me manca solamente da fare l'allaccio dei fili che che farò ora niente ragazzi esprimete le vostre opinioni vedete se vi piace il mio lavoro che ho che ho fatto eccoli la tre lampioncini lampioni che spettacolo ditemi se sono bravo o no a fare l'elettricista o meno che spettacolo ragazzi voglio vederlo da lontano se si vede che spettacolo mamma che un effetto meraviglioso c'è un po di bordello in giro c'è un po di po di disordine perché facendo i lavori ragazzi però adesso farò un po di pulizia anche niente ragazzi esprimete le vostre opinioni ho montato i lampioncini il video lo chiamerò così